guarda guarda che cazzo stai facendo? mattarelli il pavimento lo farò anch'io dobbiamo veramente fare questo però con cui morirà veramente dai facciamoci tutti vicini e poi facciamo ci passa la macchina dai eh 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 vogliamoci così, così sembra una balla di fieno oh dio dai andiamo a vedere se c'è qualcuna torre di controllo madonna correrei si è ripetuto una cosa sei te quello lì? si parammosi sparaci un po' fra un copo di avvertimenti se vuoi fare una stilta in prima persona cioè in prima persona vabbè guarda come sei yolo guardami in me guardami guardami come venite qua perchè cosa ti faccio? guardami inượt guardami ahahahah una cazzo uoh ya yo b**** Canta qualcosa Allora, mettiti in piedi, mettiti in piedi, fra Canta